di là in mezzo no no vai che guarda dove vai sono tutti in fretta è inutile che andate su lì e in puntaggio vedete che faccio così aspettare due minuti prendila più di là a tagliarla a filo dell'ultima pianta e poi tagliarla fuori secondo me tiene di più di là con questa poi vedi la perdi lì è quello che perde invece se la tagliamo forse forse riesce a prendere un po' più di velocità di là adesso provo di là adesso devo capire se se non si mette in mezzo lì seconda 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 è che lì in mezzo io voglio provare a tagliarlo a un pezzo non va su, torno giù è quello no dagli di più vai via molto veloce con la tua prova eh vedi ti porta di là adesso si è messo in mezzo a mezzo eh ma... sai che mi sa che di là dove è andato sul nonno in mezzo alle piante? mi sa che c'è un altro sentierino mi sa che c'è un altro sentierino Dai gli forti Andrei Bravo, bravo cazzarola Quasi gira Forte Voi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.